... Incidente questa mattina in corso Garibaldi nei pressi dello Shang a Venaria Reale. Un mezzo pesante centinato di videotrasporto frigo, nello svoltare la rotonda, ha preso il cordolo a bordo careggiata e a seguito dell'impatto la cella frigo si è staccata dal mezzo provocandone il ribaltamento. L'autista del mezzo, ferito lievemente alla testa, è stato trasportato per controllo a Maria Vittoria. Sul posto, oltre a Croce Verde, gli agenti a Puzzia Municipale e Alci Romoli per la messa in sicurezza del mezzo e la rimozione.